Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Eleonora Giorgi sta affrontando un momento difficile a causa di una diagnosi che ha scosso profondamente lei e la sua famiglia. A rivelare questa situazione delicata è stato suo figlio, Paolo Ciavarro, attraverso un toccante annuncio in cui ha parlato delle condizioni di salute preoccupanti della madre. Eleonora Giorgi, una delle attrici più amate del cinema italiano, ha rivelato di soffrire di una malattia al pancreas, una diagnosi arrivata in maniera devastante proprio il giorno del suo compleanno. Nonostante la gravità della situazione, Giorgi non si è lasciata abbattere. Con grande forza e determinazione, sta affrontando questa sfida mantenendo un atteggiamento positivo, che è di ispirazione per chi le sta vicino. In una recente intervista, Paolo Ciavarro ha condiviso il dolore e le difficoltà che la famiglia sta attraversando. Più passa il tempo, più è difficile, soprattutto dal punto di vista fisico. Lei è una combattente e non si arrende, ha detto con commozione. Paolo ha anche trovato un lato positivo in questo dramma. Negli ultimi nove a dieci mesi, da quando abbiamo scoperto tutto. Il rapporto con mia madre è diventato il più bello di sempre. Non avevo mai trascorso così tanto tempo con lei. È strano dirlo, ma sono riuscito a trasformare questo dolore in qualcosa di meraviglioso.